Guardia di finanza, sequestri per oltre 3 milioni di euro e 13 ordinanze cautelari emesse nel corso delle indagini preliminari. San Cataldo, rapina, si costituisce un 39enne, nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare. Tentato furto, segnalata una giovane a Caltanissetta. Verso la processione di San Michele, in programma giovedì 29. Attività intestate fittiziamente ad altre persone per ottenere i contributi europei, aggirando la normativa antimafia e ripulendo anche il denaro tramite operazioni illegali come l'emissione di fatture false e anche l'appropriazione di pascoli demaniali, sempre per percepire i fondi comunitari. Ruota intorno a questo contesto l'operazione della Guardia di finanza di Enna che ha portato all'arresto di 13 persone, 7 in carcere, 6 domiciliari, tra cui figurano anche un avvocato del foro di Catania e l'ex direttore dell'azienda speciale Silvio Pastorale di Troina. I militari della Guardia di finanza, su disposizione del GIP di Caltanissetta, hanno anche sequestrato somme di denaro, società e aziende per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Diversi reati contestati a vario titolo agli indagati, interposizione fittizia, truffa, falso e reimpiego di capitali illeciti per una serie di episodi che riguardano le zone di Centuri per Regalbuto, Troina, Adrano, Catani e Randazzo. Secondo la ricostruzione dei magistrati della DDA Nissena che hanno coordinato l'inchiesta, gli indagati erano riusciti a ottenere indebitamente l'accesso agli aiuti comunitari e poi, tramite operazioni di ripulitura del denaro di provenienza delittuosa, come ad esempio l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, a rientrare nella disponibilità delle stesse ricchezze. Investigatori inquirenti hanno anche parlato di attribuzione fittizia della titolarità di aziende e proprietà immobiliari. Inoltre, gli indagati, grazie alla complicità dell'ex direttore della ditta Silvio Pastorale di Troina, erano riusciti a ottenere l'accaparramento incondizionato di pascoli demaniali per un totale di oltre 1.181 ettari per continuare a percepire fondi pubblici senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, aggirando fraudentemente le regole previste dal codice antimafia. I corrispottivi previsti dai contratti sarebbero stati frazionati al fine di eludere il codice antimafia che prevedeva una soglia di 150.000 euro, oltre la quale il risultato obbligatorio per la pubblica amministrazione, richiedere l'informativa antimafia, che nel caso di specie avrebbe certamente impedito l'accesso alle assegnazioni dei pascoli ad alcuni degli indagati, così come infatti è accaduto. Ha deciso di costituirsi, presentandosi spontaneamente alla casa circondariale Malaspina di Caltanissetta, il sancataldese Michele Amico, 39 anni, nei cui confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché accusato di avere rapinato e causato lesioni a un amico per rubargli 980 euro. Amico non era stato catturato subito dai carabinieri, in quanto era risultato irreperibile, tanto che in manette era finito soltanto il secondo indagato, il sancataldese Gioveanni Piazza, 52 anni, nei cui confronti il GIP ha disposto gli arresti domigiliari. Secondo la ricostruzione accusatoria, i due indagati e il loro amico si erano prima fermati a bere qualcosa in un bar di sancataldo e poi erano saliti in auto per dirigersi a Canicattì. Nel corso del tragitto, Amico, alla guida della vettura, aveva arrestato la marcia mentre percorrevano la statale 640 a Caltanissetta Grigento, all'altezza della zona di Favarella, dove sorgeva il bullying Italia. E quindi, sempre secondo la tesi investigativa, aveva preso dal cofono una mazza e poi sia lui che Piazza avevano iniziato a colpire il passeggero, sferrandogli anche dei pugni. A quel punto, sempre secondo l'accusa, Piazza aveva sfilato il portafoglio alla persona offesa, prendendo i 980 euro costoditi all'interno. La somma era stata ritirata come pensione di accompagnamento per il figlio disabile della persona offesa. I colpi ricevuti hanno causato alla vittima trauma e contusioni alla testa e anche agli arti. Poi i rapinatori avevano anche riaccompagnato l'uomo a sancataldo, nella zona dove aveva lasciato la propria auto. E questi si era subito recato alla caserma dei carabinieri per presentare denuncia. Denunciata la locale procura della Repubblica dalla Polizia di Stato e il titolare di un locale a sancataldo per il reato di somministrazione di alcolici a minori, i poliziotti della divisione Polizia Amministrativa della Questura di Caltanissetta hanno effettuato durante il weekend controlli in diversi esercizi commerciali, nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell'assunzione di alcol da parte dei minori. I poliziotti recatisi all'interno dell'esercizio commerciale sancataldese e munito di regolare licenza per intrattenimento danzante avrebbero notato un mancone nel quale si somministravano bevande alcoliche e un assembramento di giovani in fila per l'acquisto delle bevande alcoliche per l'appunto, senza che la persona preposta alla vendita e somministrazione richiedesse un documento per verificarne l'età. I poliziotti delle volanti hanno denunciato a piede libero in procura una giovane di 20 anni per tentato furto aggravato di liquori e formaggio in un supermercato. Ieri mattina gli agenti, dopo una chiamata al 112, sono intervenuti in un supermercato di via Due Fontane dove la giovane era stata sorpresa a trafugare della merce. I poliziotti hanno identificato la donna che ha alle spalle altri precedenti sempre per furti in supermercati, la quale poco prima era stata fermata dai componenti della sicurezza dell'attività commerciale, insospettiti dall'atteggiamento dell'indagata. Al controllo è il risultato che la donna si era impossessata di tre bottiglie di liquore Baileys Original e di tre confezioni di parmigiano reggiano da 700 grammi ciascuna, nascosti nel doppio fondo di un passeggino modificato artigianalmente. La merce è stata sequestrata e restituita al negozio, la donna è stata quindi identificata e denunciata. Ora si attende la chiusura dell'indagine. Si ritroverebbero ancora una volta in attesa delle proprie retribuzioni i lavoratori del centro di Piannellago, una situazione che si era presentata nei mesi passati e che era stata però risolta e adesso torna a preoccupare i sindacati, che insieme CISL Funzione Pubblica Agrigento Caltanissetta Enna, Wiltemp Provinciale, Flaica Cub Regionale e Compsal Snalb Provinciale chiedono un incontro al prefetto di Caltanissetta. Nel documento fanno riferimento anche alla possibilità di attingere ai FIS fondi integrativi salariali e preannunciano che in mancanza di riscontro nei successivi cinque giorni, si legge, non si escludono azioni conseguenziali. Purtroppo anche noi pensavamo di avere risolto il problema ed eravamo più che mai tranquilli. Ad oggi invece due mensilità non sono state pagate, anzi si sta compiendo la terza mensilità e questi colleghi ancora non hanno avuto pagato lo stipendio. Per questo ci siamo rivolti nuovamente a sua eccellenza il prefetto richiedendo un incontro urgente per capire lo stato dell'arte, per capire a che punto siamo. Noi speriamo che anche questa volta sia la prefettura a pagare i colleghi perché sembrerebbe che la ditta abbia dato l'autorizzazione a questo provvedimento. chiaramente per non averlo fatto l'ufficio ha le sue giustificazioni. Noi vorremmo capire a che punto siamo. È altrettanto vero che siamo pronti a ripetere nuovamente uno sciopero perché non hanno le condizioni. Quelle mensilità che hanno ricevute sono servite soltanto a pagare i debiti. Adesso nuovamente alcuni di loro hanno l'energia elettrica tagliata, interrotta, non riescono a prendere la macchina senza l'assicurazione, quindi devono scendere a pian dell'acqua a piedi. È veramente nuovamente una situazione tragica. Sono circa 25 famiglie perché è chiaro che non prendendo lo stipendio loro soffrono sia loro che le loro famiglie. Eppure assicurano il servizio. Noi non ci siamo mai manco resi conto dei migranti che sono in città perché il loro ruolo lo svolgono sia all'interno del centro che all'esterno quando li incontrano. Massima attenzione nei confronti della questione da parte della Prefettura. Ci fanno sapere, si stanno valutando infatti le possibili opzioni per risolvere la problematica in tempi brevi e far sì che i lavoratori ricevano le retribuzioni. Anche la società che gestisce il servizio è stata contattata dalla nostra redazione telefonicamente e rimaniamo a disposizione per un'eventuale replica. Conto alla rovescia per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre per il rinnovo del Parlamento italiano e quindi dei rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In Sicilia si voterà anche per l'elezione del Presidente della Regione per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Le operazioni di voto si svolgeranno tra le 7 e le 23 di domenica. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì 26 settembre a partire dalle 14. Il sistema di voto per le elezioni politiche prevede un misto tra proporzionale e maggioritario. L'elettore avrà una scheda per la Camera di colore rosa e una per il Senato di colore giallo. Sulle schede sono indicati i nomi dei candidati al collegio maggioritario uninominale aggregati per coalizioni. Sotto ciascun nome sono stampati simboli dei partiti che lo appoggiano fino a quattro candidati per il collegio proporzionale plurinominale. Il cittadino può votare soltanto per l'uninominale se lo desidera e in questo caso gli basterà tracciare una croce sul nome del candidato uninominale prescelto. Se vuole votare anche per il plurinominale traccerà una croce anche sul simbolo del partito preferito. Tracciando la croce soltanto sul simbolo del partito il voto si trasferisce automaticamente anche al candidato per l'uninominale. Non è possibile esercitare il voto disgiunto, non si può quindi votare per un candidato all'uninominale e contemporaneamente per un partito che non appoggia quel candidato ma ne appoggia un altro. In questo caso la scheda verrà considerata nulla. Per quanto riguarda le elezioni regionali la scheda è unica, l'elettore dispone di due voti e può esercitare il voto disgiunto. Un voto è per la scelta della lista regionale il cui capolista è candidato alla carica di presidente della regione e un voto per la scelta della lista provinciale e in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato regionale. Nel caso in cui non venga espresso alcun voto per una delle liste regionali il voto validamente espresso per una lista provinciale si estende automaticamente anche alla lista regionale collegata. Essendo previsto il voto disgiunto l'elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro. Quindi è possibile tecnicamente esprimere una preferenza per uno dei candidati a ricoprire i 70 posti dell'ARS, una preferenza per un candidato alla presidenza della regione appartemente a uno schieramento politico differente. Fino a domenica prossima gli uffici elettorali comunali resteranno aperti dalle 9 alle 19 per consentire ai cittadini di richiedere la tessera elettorale qualora l'abbiano smarrita o debbano rinnovarla. Entro il 22 settembre gli elettori detenuti o ricoverati nei luoghi di cura dovranno far pervenire al sindaco del comune di residenza la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione o di degenza. Per la giornata di oggi non sarà garantita la fornitura regolare di acqua, sommatino e delia. Unica eccezione in quest'ultimo comune riguarda le utenze della zona alta dove la distribuzione sarà garantita grazie alle fonti proprie del gestore del servizio. Lo ha reso noto l'azienda Caltacqua che gestisce la distribuzione dell'acqua nella provincia di Caltanissetta a seguito di una comunicazione del fornitore di sovrambito Siciliacque in merito all'interruzione dell'attività del secondo tratto dell'acquedotto Fanaco dove si sono resi necessari tre interventi di manutenzione urgente. Siciliacque ha stimato la conclusione degli interventi iniziati nella prima mattinata di oggi in 12 ore circa e considerando i tempi necessari al riempimento e alla sanificazione della condotta prevede di ripristinare la fornitura entro le 4 di giovedì 22 a Delia ed entro le 12 sempre di giovedì 22 a Sommatino. Caltacqua inoltre renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti man mano disponibili. Da oggi iniziano i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, santo patrono della città di Caltanissetta con l'intronizzazione del simulacro e l'inizio dell'ottavario. Nei giorni a seguire in cattedrale ci sarà il pellegrinaggio da parte di alcune parrocche e associazioni della città. Giovedì partiranno le parrocchie di San Pio X e San Luca, venerdì Santa Flavia, sabato Casa Famiglia Rosetta, domenica Sant'Agata e rinnovamento dello spirito, per concludersi lunedì con le parrocchie di Santa Croce, San Giuseppe, San Marco e Santa Barbara. Da martedì 27 settembre alle 7.30 del mattino, per tre mattine sino al 29, verranno sparati i consueti 21 colpi di cannone e nel pomeriggio del martedì la solenne messa pontificale del diciannovesimo anniversario dell'ordinazione episcopale del vescovo Monsignor Mario Russotto. Mercoledì 28 settembre l'ultimo pellegrinaggio delle parrocchie di Santa Croce, San Giuseppe, Santa Lucia, San Domenico e Sacro Cuore. Il 29 settembre dopo i colpi di cannone alle ore 8, 9 e 12 ci saranno le sante messe in cattedrale, con quella delle ore 10 e 30 presediuta dal vescovo alla presenza delle autorità civili e militari e della Polizia di Stato. Nel pomeriggio alle ore 18 e 30 Santa Messa celebrata dal vicario generale Monsignor Onofrio Castelli e a seguire la processione del simulacro e a finire i fuochi d'artificio dal cortile della Chiesa dell'Abbadia, omaggio della città al Santo Patrono. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà ancora correnti fresche settentrionali interessare l'Italia, ruotano attorno a quest'area di alta pressione presente sull'Europa settentrionale e si riversano sul nostro paese sotto forma di venti da nord-est che soffriranno piuttosto sostenuti. Controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia, qualche annuvolamento va a interessare ancora una volta le regioni adriatiche, portato appunto a queste correnti fresche da nord-est, qualche nuvola si infila anche in pianura padana e poi guardate questa nuvolosità sul Mediterraneo centrale porterà conseguenze soprattutto in Sicilia. Controlliamo infatti le precipitazioni attese sull'Italia, torna qualche piovasco sul medio adriatico, fortunatamente non particolarmente intenso, qualche gocce di pioggia anche sull'Appennino e poi appunto a fine giornata tempo in peggioramento sulla Sicilia orientale. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì più variabile sul medio adriatico con qualche nuvola anche in pianura padana e qualche piovasco vi dicevo tra Romagna, Marche e Abruzzo. E poi alla fine del giorno tempo in peggioramento sulla Sicilia orientale, anche in Sardegna, sui settori orientali non mancherà qualche piovasco. Nel resto del paese, ampie zone di sereno, occhio al vento, soffierà sostenuto da nord-est e temperature in leggero calo. Per tutti i tagli e comunque sulle vostre località consultate l'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Romano, Corso Vittorio Emanuele Servizio notturno, Marrocco, Via Rosso di San Secondo Servizio diFit